Beh, beh, alla faccia dell'amichevole mi viene da dire, porca miseria come ci sono andati sotto, come andavano belli duri sul pallone quelli dell'Olympic Marsiglia. Insomma, Tudor ha fatto valere subito il suo stile all'italiana, perché ragazzi, tutt'altro che amichevole questa, addirittura con espulsione, insomma, bene, bene, nulla di che, ci sta quando le partite sono vere, sono belle, perché poi quando si incontrano certe squadre, quando il livello si alza, poi è vero l'amichevole, però insomma poi nessuno vuole perdere, è stata una gran bella partita, poi vinta e stravinta, stradominata dal Milan, il livello è proprio differente. E io qua, e io qua ragazzi, voglio dire una cosa, perché se prima il Milan dovevo dimostrare, il Milan deve sempre dimostrare, ragazzi, il Milan è una grande squadra, il Milan è una grande squadra, e quando incontra squadre forti come l'Olympic Marsiglia, perché comunque è una squadra che è arrivata seconda in Francia, dietro al Paris Saint-Germain, comunque è una squadra di tutto rispetto, e lo vedi che in 20 minuti chiude la pratica, vuol dire che il livello del Milan è addirittura più alto. Poi non dico che sarà come quelli che vinceranno la Champions League, però insomma è un bel livello, il Milan lo ha dimostrato, anche se è solo in un amichevole, che poi un amichevole non è stata, perché come ho detto all'inizio... Va bene, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Necci, nella casa del pane Balù, belli siete, come dico sempre, vi invito subito a mettere un bel like al video, a tutti i milanisti che sono contenti di questa vittoria, e di un primo tempo proprio fatto alla grande, dove si è visto subito che il Milan sta entrando in condizione campionato, perciò mi raccomando, bel like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti, fatelo ragazzi, è importante, è gratuito e non vi costa nulla, soprattutto a me mi fate un grande favore. Bene, vi ringrazio di cuore, e insomma analizziamo questa partita, analizziamo questa amichevole che, insomma, come ho detto all'inizio, non è stata poi un'amichevole, cioè di fine luglio, quelle amichevole dove si sta attenti a non entrare, ad andarci piano, no, no, è stata tutt'altro, perciò è una partita vera, bella, bella tosta, dove il Milan, insomma, ha fatto subito valere la sua forza, e in 20 minuti ha chiuso sostanzialmente la pratica, io ho visto un Teo Hernandez veramente che è a due livelli più alto di tutti gli altri, oggi Teo Hernandez secondo me è il migliore esterno sinistro del mondo, non ce n'è proprio per nessuno, per fisicità, per tecnica, per tutto, per come copre anche in difesa, veramente tanta roba. Noi oggi parliamo di balloture come uno scarso, ma insomma stare dietro a Teo Hernandez, non so quanti ne trovi poi, insomma che sono poi forti a quel livello lì, no, perciò poi devi trovare uno che si deve adattare a stare in panchina, perché poi Teo Hernandez salta due, tre, quattro partite all'anno, perciò non è che puoi prendere uno di livello alto, perché quello di livello alto poi vuole giocare, e allora ti tocca prendere uno che è un po' più... detto questo io ho visto un Teo Hernandez strepitoso, mi è piaciuto molto Giroud, ha combattuto come al suo solito, ho visto bene molto Benassert, la coppia dei centrali difensivi, non ne parliamo perché oramai Bud Spencer e Terence Hill, cioè Calulo e Tomori oramai sono coppia fissa, sono come Bud Spencer e Terence Hill, Staglio e Olio, Staschi e Hatch, non li puoi separare, quando sono insieme sono una garanzia, basta solo la loro presenza ed è tutto un programma, poi bene anche Calabria, capitano sulla destra, insomma io ho visto un gran bel Milan, Tonali in crescita, era un po' indietro di condizione, lo sto vedendo, l'ho visto diciamo meglio, meglio che in crescita anche in condizione, e poi ragazzi ma siamo sicuri che ci serve un esterno destro? Siamo proprio sicuri che ci serve un esterno destro? Perché io stasera ho visto Messias, insomma ragazzi noi ci dobbiamo ricordare che l'anno scorso è vero che Messias ha faticato, però è anche vero che Messias è poi arrivato all'ultimo giorno di mercato, non aveva fatto la preparazione col Milan, non aveva neanche fatto una preparazione col Crotone perché non si allenava sostanzialmente, insomma poi dopo per poter iniziare la stagione se non fai la preparazione diventa difficile, poi devi rincorrere, poi iniziano le partite, sono tante, non riesci mai a prenderla, invece quest'anno io l'ho visto alla grande, stasera l'ho visto veramente alla grande, lui sta facendo la preparazione col Milan perciò ragazzi quello conta molto, e io ho visto una partita di Messias, io non so questa stagione quante partite giocherà Salome Care, perché se poi tu hai un Messias del genere, un De Keteler che arriverà domani, non arriverà oggi, arriverà domani, già si stanno facendo un sacco di problemi, arriva, arriva ragazzi, comunque stavo dicendo con un Messias così, con un De Keteler che può giocare sulla tre quarti e anche sulla destra, insomma vedo un Salome Care un po', mi spiace, devo essere sincero, mi spiace, perché poi lui aveva iniziato veramente bene due anni fa, la sorpresa Salome Care non è mai stato garrincia, però insomma mi piaceva, lui era molto utile, correva tanto, copriva bene, oggi fa fatica, oggi fa fatica anche a fare quelle cose che l'avevano distinto allora, la tanta corsa, la tanta quantità, ora fa fatica anche a fare quelle, insomma con un Messias così, che torna bene in difesa e che ti dà, ha fatto un gol spettacolare, mi ha ricordato un pochettino il gol contro lo Spezia, il famoso gol annullato, insomma ha fatto un gol della Madonna, ma ragazzi ha fatto tanta tanta roba, l'assist a Giroud, nel gol di Giroud, insomma è sempre stato nel primo tempo in cui, in quella mezz'ora sempre presente, ha fatto veramente, sta facendo un grande precampionato, sono contento, perciò con un Messias così e con un De Keteler che può giocare anche su quel lato lì, diventa difficile secondo me per Saleme Kerr trovare posto, perciò tutti quanti parlano, e Ziyech è ancora, ma non lo so ragazzi, io non lo so perché secondo me, secondo me se ci sono rimasti quattro spicci da consumare, bisogna vedere se si riesce a portare a casa Sanchez, perché lì, non dico che il Milan manca, però insomma la mancanza di che si si farà sentire più avanti, e Sanchez bisognerebbe convincerlo, ecco io adesso non so se è vero che il Milan ha l'accordo con il Lille, però Sanchez vuole andare al Paris Saint-Germain, magari è anche vero, a tratto dal Pregasici mancherebbe altro, è una grande squadra e gli dà anche tanti soldi, se fosse solo per i soldi io direi al Milan di fare uno sforzo, però magari non è solo per quello, insomma io dedicherei, mi concentrerei sul centrocampista, cercare di trovare un centrocampista forte, perché lì sulla destra è secondo me, poi con un Messias del genere e con un De Keteler che puoi spostarli, siamo poi a posto, non penso che il Milan abbia poi bisogno di Ziyech, poi mi sbaglierò, vedremo, vedremo, comunque io ho visto una gran bella partita, nel secondo tempo poi è entrato, abbiamo rivisto il nostro Kiar, perciò sono felice, inizio a mettere minuti sulle gambe e sappiamo quanto è importante Kiar come mentalità che dà la squadra, insomma lui e Ibrahimovic sono le nostre colonne, quelle che hanno fatto risuscitare sto Milan, perciò sono contento per Kiar, sono contento, sto vedendo una squadra in crescita, mi piace molto, mi è piaciuto molto anche Adli, non ha fatto i numeri come nella partita scorsa, però qualche numerettino anche oggi l'ha fatto, insomma non mi è dispiaciuto, bene, bene tutti, dai ragazzi ci siamo, dai sabato prossimo poi vedremo anche De Keteler nell'amichevole a Vicenza, vedremo un po' anche il ragazzino come se la cava, perciò sono molto molto ottimista per la stagione entrande, io lo sono sempre per il Milan, però quest'anno vedo veramente una grande squadra, una squadra che ha mentalità, una squadra che gioca insieme già da 2-3 anni, c'ha un bello zoccolo duro che gioca insieme da 2-3 anni, una squadra che non ha venduto nessuno, che ha perso solo che sì, gli altri romagnoli non lo considero, sì è una perdita, però in realtà era un panchinaro, perciò come titolare ha perso che sì, però ce li ha tutti quanti gli altri, insomma è tanta roba, ora ha preso Origi che può sostituire Giroud, ha preso De Keteler, ha preso Adli, Cepo Bega, insomma è una squadra forte che sta dando mentalità a questi giocatori, insomma io sono molto molto fiducioso e ne vedremo delle belle, secondo me il Milan sta costruendo una squadra che per i prossimi anni darà filo da torcere a tante tante squadre italiane. Va bene ragazzi, io vi auguro una buona serata, belli siete come dico sempre, mi raccomando mettete bel like al video, iscrivetevi se non siete iscritti e come dico sempre ragazzi, ciao!